E qua mettiamo le prove e le corde, è la forza di chi fa sicura. 200 tonni o centimetri? Il professore è un precisino, fa i due metri esatti, non uno di meno. Ah quella tuta colorata, buono così, allarga il piede sinistro, anche quella più larga se vuoi, sei altissimo, anche quella di là, esatto, porti il piede destro alto, buono, vai al buchetto davanti a te con la mano sinistra. Cominci a sentire che le braccia finiscono, si? Sì, così, sì, buono, ancora un po', lì non, eccolo lì. Vai prof, vai 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 vai, vai Michele, ci sei, ci sei, troppo con il mio amico. Ancora un po', dai. Vai su, sì, hai un piede a sinistra se vuoi, ti tengo, ti tengo, muole. Prova, prova. Sei tenuto, puoi mollare quando vuoi. Eccolo, dai. Eccolo lì, piede sinistro, più larghi non ce la prendi. Un po' più largo, un po' più largo più in su. Eccolo, quello, sì, 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 sì. E poi andare lì. Buono. Grande Michele. Perfetto. Vai vai tia, quando vuoi molliti. Perfetto. Ottimo. Qua veramente, guarda, guarda Aurora che non molle a colpo, eh. E appena fatta questa, fa questa. Bravissima. Ecco un po', sali. Brava. Aurora, bravissima. E occhi chiusi ora? Ho appena fatto. Vai ancora su per la mano destra. Io che pensavo. Brava, su, spero di calciare i piedi un po'. Brava, vai. Bravissima. Vai che c'è un buchetto lì, brava. Vai a quella verde. Ti stai guardando. Vai Jacopo, ce la vuoi fare? Sì, sì. Grande. Bravissima. Un po' calciare i piedi, è tutto lì, adesso. Sì, o anche al ginocchio destro hai una presa. Jacopo vai, salta. Guarda. Ma che... Bravissima. Ce la puoi fare? È meglio. Basta. Sinceramente cerca. Eccolo lì. A sinistra vai sul destra facendo il balzello, se riesci. Al ginocchio, al ginocchio. Guarda. Come, come, mostra. Claudia, come fai? Come si muore? Come dovrebbe fare? Vai Jacopo. Giù. Eccolo, ci sei. No, no. Carica bene. Brava. Adesso hai un bel appeso sulla destra per la gamba destra, con il piede destro. Brava. Viene che? Quella. Fai Ambra. Fai le gambe bene. Brava Ambra. Ecco, quando trema la gamba vuol dire che siamo proprio in tensione forte. Stai registrando Tomas. Si suelze. Fai i bei balzelli. Fai i balzelli. Fai su quello. Tomas. Tomas. Saltati. Ecco, sì. Bravo. Ora fatti vedere che sei tu. Così dimostriamo a mamma cosa fai. Brava. Non abbiate fretta di mettere in piedi. Perché si. E' riferito. 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 E' buon giorno sea. E' riferito. Mi piacerebbe. Trovala. La sfida è in pace. E' riferito. Mi pensa a gonfiare. E' riferito. Mi pensa a spingere i piedi. E' riferita. Sì, sono con i piedi. Mi piacerebbe un po' più a sinistra, un po' più a sinistra, un po' più a sinistra. Sì, 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 ecco. Tira il piede su, destro, sì, giusto. Che forte che sei. Tira il piede su, sinistro, tu tanto. Tanto sul sinistro. Sì, ancora un po' di sinistro, sì, sì. 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 Salta, salta. Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.